signori ci siamo oggi vi faccio vedere la super postazione nel salotto si vede già il mostro qui dietro ho appena portato l'ultima console con il mio zaino delle superiori allora in questo video vi faccio vedere allora questa stanza qua che è la stanza verde del quale vi ho parlato più volte con come si stena le varie console con la scusa che oggi sono andato a prendere l'ultima che è nintendo switch perché mi è stato mandato mario plus king plus rabbits kingdom battle non lo so mai pronunciare lo chiamo funghi e carote non so se vi ricordate c'è quella carta di mercantiliera che si chiama funghi e carote non me lo riesco bene mario plus rabbits funghi e carote allora da notare come aspettate da notare come ho portato il nintendo per la data tanto va per non farla ammaccare con una maglietta con una maglietta ora vi faccio vedere la maglietta con una maglietta il palio dei campanili signori ok allora queste nintendo switch ti andremo a montare da notare che c'è la super postazione ma non c'è ancora il divano non c'è ancora il divano questo qua è un letto come potete vedere un letto questo qua è un letto che però poi cioè non lo sa qua è provvisorio chiaramente è un letto per solamente che sto letto dato che ha un materasso diciamo d'emergenza non è molto comodo per niente comodo infatti mi sono portato una sedia della cucina non so se la ricordate la cucina ve l'ho fatta vedere nel video quindi io mi siedo qua con la sedia della cucina al mostro allora vi faccio vedere come mi sono sistemato finalmente per la prima volta nella mia vita dopo 27 anni e mezzo 27 anni e 7 mesi insomma dopo questa è la mia prima televisione di tutta la mia vita mamma mia la mia prima televisione non ho mai avuto una televisione c'ero in casa mia c'era la televisione con una televisione mia dicono non l'ho mai avuta non è vero non è vero ho detto una cazzata quando ero all'altra casa cioè quando ero bambino avevo una televisore vecchia tubo catodico che peraltro l'ho portata qui ma stiamo parlando di tantissimo tempo fa dico da quando esistono queste televisioni qua non avevo una televisione quindi odè ho approfitto l'ho aspettato aspettato che ci fosse una super offerta fantastica mi sono portato a casa finalmente un pannello 4k al quale ho collegato chiaramente tutte le console a partire da xbox one che è stata la prima che ho collegato ad arrivare qua c'è il router della team la ps4 qui andrà nintendo switch questa è una super cassa della creative perché queste televisioni hanno un audio di merda e quindi ci ho messo come vedete delle casse perché non sono un favoloso però almeno insomma un po meglio ci sono ma io probabilmente giocherò con le cuffie quando voglio un audio tipo ora sto giocando a hell del design of sacrifice con le cuffie siete molto meglio qui sopra ci ho messo provvisoriamente a noi la maschera di corvo è la collector di starcraft parentesi ragazzi a proposito avete visto che è stato annunciato ai joven pires 4 sono in vibrizzazione e poi qui abbiamo playstation 2 vabbè qua cavettistica joypad questa qua è un varo vuoto playstation 1 nintendo entertainment system e nintendo wii u e c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dire che sono un pc master race comunque qua è la super parete con tutte le console alle mie spalle come potete vedere c'è il muro verde quindi qual è il senso questa stanza sarà sia come vedete un bel muro verde bello grande guardate quanto è grande vedete però è tutta vuota ancora la stanza questo è un po quello che si dicono le priorità di un gamer c'è ancora queste non c'è il divano comunque il divano l'ho ordinato verrà però la cosa che a me importa è questo quando ci piazza una serie gioco ora a questa parete verde che cosa ci andrà fatti in futuro allora il divano allora prima parliamo come casa come casa qua andrà il divano quindi già il divano si mangia fino a qua e già fa arredamento voglio dire poi qui ci vorrei mettere tipo una bella lampada l'arancione guardate come ci sta bene all'arancione e qua che ne so dei dei mobile insomma poi capito capito questa parte qua viene un po arredata va bene e quindi il verde fa anche arredamento come vedete ci ho fatto anche delle linee bianche sopra e sotto che fa più arredamento insomma ma contemporaneamente parlando come youtube posso registrare super gameplay con il green screen perché qua c'ho finalmente peraltro anche lo riconoscete il 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 router della team con super fibra quello del ballerino no ballerino della team e c'ho la possibilità finalmente di streammare in alta definizione addirittura forse in full ht non lo devo fare delle prove comunque già in alta definizione va bene e avete capito che pacchia fare finalmente le stream da passare dalle stream a 360p alle stream a 720p e quelle a 360p non così vedono bene comunque è un bel lavoro in realtà il green screen così è comodissimo ma in realtà non viene bene come il green screen vero perché in realtà il green screen vero dovrebbe essere retroilluminato comunque sto insomma sto provvedendo anche a comprare delle luci anche in questo caso per la prima volta alla vita a comprare delle luci perché fino ad ora ho utilizzato sta lamba come vedete c'è anche la carta da forno per fare l'effetto softbox e compro un set di luci che ho visto su amazon non dovrebbe neanche venire così tanto io pensavo che un impianto di luci venisse tipo a 700 euro invece ne ho trovato due con tipo un paio di ombrellini che viene tipo 70 euro scontato insomma dovrei dovrei ordinarlo insomma voglio consultarmi con qualcuno e poi ordinare questa è la stanza che altro dire ho fatto vedere le varie console ho fatto vedere la postazione monterò nintendo switch e proverò finalmente mario plus rabbits funghi e carote signori questo è il primo video la prima stanza negli altri video vi farò vedere altre stanze vi racconterò altri aneddoti e che dire non ci vediamo domani al prossimo video ragazzi super grisky